Dopo Mubarak Ali, circa 3.000 persone sono tornate a manifestare a Sana'a per chiedere le dimissioni di Ali Abdallah Saleh. Come Osni Mubarak, il presidente iemenita è al potere da oltre 30 anni. I partiti di opposizione non hanno partecipato, la protesta è partita dalla società civile, molti gli studenti e gli avvocati. Si sono radunati davanti all'università della capitale, si sono diretti verso piazza Tahrir, la piazza della liberazione, anche qui simbolo delle proteste. A Thais, nel sud, ci sono stati scontri fra manifestanti pro e contro Ali. La polizia ha sparato in aria per disperdere la folla. L'organizzazione internazionale Human Rights Watch ha denunciato i metodi violenti degli agenti iemeniti, fra cui l'uso di uno sorditore elettrico. A Sana'a la polizia è riuscita ad evitare il contatto fra le due opposte fazioni, creando un cordone per tenere lontano il centinaio di sostenitori del presidente che stavano raggiungendo il corteo antiregime.